L'aspetto è che siamo soltanto io e lei, da soli, da qualche parte. Dopodiché tiro fuori il pop-up. E magari ci metto sopra qualche un guetto, tipo vaselina, per farlo sembrare qualche bagnata in luci. Per poco non si mettono a volentare, vedendo come glielo presento. Ah, un paio sono scappato, certo sono schizzate fuori dalla porta con una maggioranza. La maggioranza è in buia, ma la mettono un paio di volte e poi attaccano. No, no, non è poi intanto un minuto. Ma intanto guardano dall'altra parte e cercano di non guardare me in faccia. Tutti intimiditi, spaventati, fiduciosi e ogni volta tempo si è no, cinque minuti. Prendono e si mettono a piangere. In un certo senso sono incazzate neri, capisci? Si ritrovano strette all'angolo e obbligate a dire che non può essere poi così brutto. E non mi dovrei vergognare. E poi lo vedono e io faccio in modo che sia proprio brutto. Ma brutto, brutto, brutto. E a quel punto che devono fare? Finta? Chi? Queste stronzette di qua che pensano che Elvis è ancora un fru. Eh? Mi sicuro non riesco a fare una palla, ma te ne vengono. Ogni volta le strughe. La fase che...